Sì, come lo chiamavano la nostra lingua? E' una romanessa. Romanessa? Ha segnato la comunità? No, no. Andiamo avanti. Su sei pittuta la signora Romnia? Ma per me da signora Romnia, se ne potete, è spontaneo, per la mano di Andrea, è una cosa... le origini. Per me essere Rom è qualcosa che viene da dentro, è spontaneo, non è una cosa forzata e così via. C'è un'interventa autodontata, sarà che cria la crescente? La C, la C con valore, la C, rispetto, comprende delle vaveri. Le vaveri Rom, su Pinenzana, dalle famiglie direi che se ne sa chiare rispettoso, sa chiare... su Pinenzana. A Pinenzana che ha, se ne le famiglie c'è. Allora, sicuramente i genitori li ha educati al rispetto, all'educazione e così via. La domanda mia, cosa ne pensavano le altre famiglie di questo tuo modo, dei tuoi genitori di educarti al rispetto, all'educazione, a non essere la furbetta della situazione, gli altri, insomma, erano soddisfatti di questo modello di educazione che i genitori gli hanno dato. Ehm... quando ha segnalato nel te che non lì, i genitori... se ci beccano la matica, se ne so segnalare non lì. No. Cioè, quando eri piccolo, è vero che ti discriminavano perché era Rom, la risposta è secca. No. No. Assolutamente no. Anche quando hai già sentito scuola, non ho... ne racchiamo difficoltà. Pure quando sono andato a scuola non ho trovato difficoltà di nessun genere. Ma venivano chiamati in qualche modo Zingari o Rom o proprio per niente? Zingari. Zingari. Giovanissima va insegnare in Ciaiurì a Giana, da lavoro in esa Villa Serena. Chi problema a Tiriana? Quando eri piccolo sei andata a lavorare a Villa Serena? 15-16 anni. Che problemi hai avuto ad entrare nel mondo del lavoro? Niente! Assolutamente nessun problema. Quindi si è inserita bene ed è andata avanti tranquilla. Che succede da scuola? I maestri che se ne lasciano, i compagni bravi, nasce niente mai diverso dagli altri Ma lei si è trovata bene, non si è sentita mai diversa dagli altri a scuola, i compagni le volevano bene Quindi ricordi molto positivi della scuola Allora andiamo avanti Sarà caresinelle, quella che era roma? Caggè Che non era roma si chiamava caggè Da per tutto questo significa che era caggè? Cavalava, caggò, questo significa che era caggè? No, 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 no Sarà il mio signor Romrini o questo caggè? Cioè, una ricca esce nel bottiglio un calè? Non ci vede una cosa cattiva No, assolutamente Che, anche se vuoi the 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 Grazie a tutti.